Che cosa ca... C'era una volta una principessa Le piacevano molto le persone Ma proprio un casino Biglietto No grazie sono pieno Penso che George sia una scopa Secondo me no Probabilmente hai ragione Stasera quasi quasi vado a mangiare sushi Hai visto? Ero Giorgio e è tornato in ufficio Cosa? Ma è impossibile Però Giorgio è morto tre giorni fa Gira a destra Gira che cosa Anna Maria Sei sempre così approssimati Giorgio è morto E ora un cortometraggio Un caffè per piacere No Ah finalmente siamo arrivati nella grotta dell'osmeraldo invisibile Ma non c'è niente qui Aia Mi scusi Lei per caso è una torta? Sì L'ho capito dalla candela che ha in testa Che cos'ho in testa? Onda energetica E i duetti di prosciutto Sono 12 euro Attento un leone Che cosa? Aaaaaa 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 Ho un panino Evviva Sono un poliziotto Sono un genio che esaudisce tre desideri E io sono laureato in scienze della comunicazione Ciao Ciao E qui che abita il potente mago Gattor No Ehi ma tu sei un cavallo? No sono un cane mi spiace Ah peccato Che gatta da pelare questo omicidio a porta chiusa Che cosa ne pensi detective ninja? Detective ninja? Forse è tornato a casa Sono un ladro e ti rubo i soldi Oh no ti prego non farlo Uffa va bene Grazie di non rubarmi i soldi Prego Andiamo a mangiare una pizza e margherita? Ok Robert l'uomo con tre mani Ehi Robert mi dai una mano? Tanto ne hai tre Uff che pesante questo scatolone Ti aiuto? Fatti i cavolacci tuoi Robert Oh no dove sono finiti i miei piedi? Alberto guarda cosa ho trovato Alberto non vedi che sono occupato vai via Sempre a interrompere gli altri Sei un maleducato Alberto Ciao sei un cavallo? Sì Ma sei sicuro che questi? Alberto vai via! Ok scusa Uff al borto Se gli animali esistessero nella vita reale È proprio come il videogioco Ecco qua Ancora un giorno e avrò completato la dieta Ehi ti va di ballare? Perché no? Brava Grazie Guarda! Eh? Cosa? Ho un dito Oh Esco un attimo e mi raccomando Non mangiare la torta Garfields Successivamente Sono tornato Oh no la torta No Sei la torta vivente È peggiore che esista Garfields Come vorrei I tuoi bei capelli lunghi Beh con pazienza E una sistematina Taglio ogni tanto In un paio di anni Li avrai lunghi così anche tu Non hai capito? Ho detto che voglio I tuoi capelli lunghi Aaaaaaah Opera spaziale Ho rilevato un problema La fornitura di ossigeno Presto Aprimi il portone Della stazione spaziale Opera spaziale Mi ricevi? Papero spaziale Papà mi compri il gelato? Il gelato è roba da bambini Ma io ho sei anni Avere sei anni è roba da bambini Ma Sai che cosa non è da bambini? Il whisky Eeeh 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 Signorina Le sembra questo Il modo di comportarsi In un ufficio? Sì Sto lavorando Bravissima Ok 15 verticale Inizia con ba E finisce con na Frutto esotico Dal colore giallo Sei lettere Bapfona Non penso Roberto? No Roberto Ha sette lettere Finalmente Mi è arrivata L'edizione limitata Blu-ray Di Frozen Adoro questo film Ti piacciono i cartoni animati Cosa sei? Gay? Sì L'ericò 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 Eeeh Eeeh C'era una volta un pesce Questo pesce aveva un sogno Da grande voglio fare il castoro Il pesce per fortuna conosceva un mago magico C'era una volta un mago a cui gli piaceva di brutto il sushi Mmm castoro Roberto l'investigatore del mistero Mmm dove ho messo il cellulare? Per fortuna che sono un investigatore del mistero Eeeh Oddio stavo sognando di stare facendo un sogno Per fortuna era soltanto un sogno Aiuto sclorbo Temo che il mio gatto stia cercando di uccidermi Ma no Fronzo Di sicuro stai esagerando I gatti non sono così intelligenti da poter mettere in atto un omicidio E di sicuro non parlano la lingua degli umani Forse hai ragione Mi sto solo facendo prendere dal panico Grazie Mi ha fatto molto bene parlare con te Bacona? No quello è un tipo di carne Stai fermo qui gatto E non evocare satana È arrivato il momento del professor Pazzorf E questi sono i compiti per l'estate Mi raccomando studiate miei cari alunni ma riposatevi anche Buone vacanze Professor Pazzorf non dobbiamo davvero catturare un miliardo di scorpioni Cioè è uno scherzo vero? Qualcuno qui vuole un debito in scienza degli scorpioni Ma certo come ho fatto a non pensarci subito Balena Giusto bravo Evviva abbiamo finito il cruciverba Penso che per le prossime ferie andrò in Finlandia Che cosa vuoi andare fin là? Mi scusi vorrei il numero di cellulare di Napoleone Napoleone Bonaparte Sì bravo Quello francese Esatto lui Mi spiace ma è morto nel 1821 Come vorrei abitare in Cina Ma Marco tu sei la Cina Che cosa? Questa è la storia della patata atomica La patata atomica era una patata che era atomica Ehi una patata E' Giorgioz il cucina patate Che buona questa insalata di patate Giorgioz Sembra atomica ma qual è il tuo segreto? Il mio segreto è un segreto Giorgioz infatti aveva buttato via la patata atomica Perché non si mangiano le cose trovate per terra Fine Ciao il video è finito andate via Via ho detto Che bello un'altra giornata di sole Oh no un'altra giornata di umani Ce l'ho fatta ho inventato un computer che suona il piano esattamente come Beethoven Ora vi faccio vedere Computer suonami la nona sinfonia No sono morto Proprio come Beethoven Mi scusi dove posso caricare il cellulare? Qui c'è un cannone Grazie Davvero sai saltare 100 km in altezza? Si Fammi vedere Ok Ehi Poim Clic Finalmente sono riuscito a inventare l'animale definitivo Il canerino Oh no si è staccato lo scotch Sei il peggiore inventore di animali che esista Almeno è ancora utilizzabile come un cane normale Da grande voglio fare l'inventore Si dice inventario Ah Vent'anni dopo I gatti sono esseri estremamente intelligenti Per esempio guardate questo gatto come compila la dichiarazione dei redditi Mancano tipo metà pagine e una è tutta mangiata Benvenuto nel team dello zoo di Panward Grazie Può cominciare subito dando da mangiare ai pinguini Ok Questo video è stato realizzato grazie a buona cola La cola buona Che ore fai il tuo orologio? Tutte È il tuo cellulare quello che sta suonando? Si Devi essere molto orgogliosa di lui Lo sono Che caldo Faccio una doccia Bella idea Ho fatto una doccia ma ancora più caldo di prima Che strano Vorrei delle banane Mi spiace sono esaurite Ah sono già 50 come passa il tempo Ti ricordi quando ero giovane non parlavo ancora con le sedie? Ah neanch'io Carl Flakes hai bevuto tu la pozione che dona la parola agli animali? No Mi chiedo chi sia stato temo che non lo sapremo mai C'era una volta un anatroccolo molto brutto Un giorno si stufò di essere così super bruttissimo Così diventò un razzo e andò sulla luna Wow Ho un'idea Scarpe senza zucchine E' l'idea più stupida che abbia mai senti No che cosa fai? Non lo sai che il latte vaccino fa diventare autisti? Dove la porto signore? No Ehi ti ricordi di quella volta che siamo andati al mare E poi io ti ho lobotomizzato? No Eccellente Vorrei delle patatine Abbiamo solo le patatone va bene lo stesso Ok Non ho più fame posso avanzarle No Mi presti i tuoi polmoni? Perché? Perché sei bella da togliere il fiato Vecchio martione Sono ancora un latin lover Mi scusi vorrei una mazza caffè Subito Sono 5 euro Figliolo Vieni e siedi qui vicino a me Perché padre Lascia che ti racconti una storia No Scusi posso ordinare una pizza? Ma certo Questa è una pizzeria Sono rincuorata dalla potenziale ordinazione E ora rincaso senza elargirvi denaro Ah Ciao Ciao Forza ce la puoi fare Sei un figo Sei un grande Sei il migliore I pinguini sono animali estremamente intelligenti Tutti a parte George George è stupido Eh? Mi sono proprio divertito Non è che mi daresti il tuo numero? Certo porto i 37 di scarpe C'era una volta un fiorellino Esso viveva nella città di ora dormi Fine Che storia stupida Se vuoi ti racconto quella del bambino che non stava mai zitto Abitava nella stessa città Pazzesco Fine Che palle La conosci la famosa leggenda del cane sconosciuto? No E tu? Neanch'io speravo che la conoscessi tu Eh appunto No Mannaggia Pronto? Gianberta vieni a cena con me domani Va bene Ok Bene Che bello Ehi Dov'è finita la mia pepita d'oro? John L'avevi messa su questo tavolino? No Ah E dove l'hai vista l'ultima volta? Tre anni fa in Vietnam Allora magari l'hai dimenticata in Vietnam tre anni fa? E tu come fai a sapere dove ero tre anni fa? Ehi tu Che cosa hai da fissarmi in quel modo? Mmm Et voilà Ho finito il vostro ritratto sir Fa vedere Gaston È bellissimo Gaston Grazie sir Vado a fare un giro in barca Mi dai una mela per piacere? Tieni Grazie Barca a mela Tre anni prima in Vietnam Beh i capelli Quali capelli Come gli italiani mangiano la pizza Come gli inglesi mangiano la pizza Brexit Come i robot mangiano la pizza Non possiedo un apparato digerente Ah Hai presente la sensazione di quando strozzi cento persone E proprio quando credi di aver finito scopri che uno non è morto E allora devi sparargli in faccia No Neanch'io Mmm Che fame Niente può impedirmi di mangiare questo budino Oh no Mi è scivolata via la faccia William è ora che te lo dica Sei stato adottato Cosa Ecco i tuoi nuovi genitori Moglie che cosa succede? Ciao William Posso avere un cappuccino di soia? Lei è pazzo non esistono le mucche di soia Wow grazie Hai preso il mio cellulare prima che cadesse Era nuovo Pensa se si rompeva lo schermo E quello che cos'è? Calmati è solo un cane Mi ero preoccupato Che bella la Norvegia Ti piace nonno laser? Aaaaaaah Hai visto due ore di verde? Com'è? Bello dai A un certo punto diventa azzurro Ecco me l'hai spoilerato Io vi condanno Alla sedia elettrica Sono 19 euro e 95 Posso pagare con la carta? Sì Ecco una banconota di carta Ecco il resto Ecco il vado via Ciao sono Dragon Ball In realtà Dragon Ball è la principessa Tu sei Link Scusa Ehi tu La banda dei cani Dacci tutte le coccole che hai Va bene che belli i cani Sì siamo belli In cucina con Gino E voi chi siete? Come siete entrati? Fuori da casa mia Abbastanza bella Abbastanza bella sì Ok Vendete dei panini? No quella là è solo un'opera d'arte Sull'ingannevolezza della pubblicità Ah vabbè Le avventure di Gianna Gianna tu sei una tipa avventurosa? No Per me sei bellissimo Wow un tricheco Quello non è un tricheco Che cos'è? Non lo vedi? È un monocheko Quello è un tricheco Oh che zoo strano Guarda un quadrisonte È terminale Un monaco riesce a diventare un super monaco Dopo dieci mesi di meditazione Ehi Sei Documentario sui delfini Cosa c'è? Ho il torcicollo Mi scusi Ha visto il leggendario cane parlante Di cui si parla tanto? No mi spiace Non ho visto mai nessun cane parlante Vabbè Forse non esiste Grazie comunque Grazie di aver mantenuto il mio segreto Ti sarò riconoscente fino alla fine dei miei giorni caro amico Ah un cane che parla Che bella Grazie si chiama Roberta Saluta Roberta Ciao Ciao E che vi serva di lezione E per la prossima volta fate i compiti a pagina 3 Che bellissimo tramonto Si dice elefante Per me rimarrai sempre un tramonto Mollalo Gianna è velenoso Giobbio voglio dirti una cosa Che sei un alieno? No che mi sposo E allora di chi sono queste antenne che ho trovato in giardino eh? Boh di una cavalletta? Una cavalletta aliena? No Vado a farmi un bel giretto Oh no C'è brutto tempo Vabbè niente Che sgarbato Guarda lasciamo perdere La storia di Giovanna C'era una volta Giovanna Francesca che cosa ci fai qui nella storia di Giovanna? Mi hanno vista Vabbè Comunque Giovanna era una mosca super mega simpatica Ciao Giovanna aveva una cerrima nemica che si chiamava Francesca Non sopporto le persone che parlano sempre Guarda sono proprio una scocciatura proprio Sì Ce l'abbiamo fatta Steven siamo riusciti a trasformarmi in un caffè Presto Ora inverti la reazione e ritrasformami in un essere umano Noo Steven cosa fai? Mi stai uccidendo Io la mattina non riesco a ragionare se non dopo aver bevuto un caffè Guarda non me ne parlare Porteresti fuori la spazzatura per favore? Ok Ti va di andare al cinema? Va bene Un pacco loca Cos'è quella roba? Un secchio Sì ma il contenuto? Un secchio Cosa? Oh c'era un altro secchio più piccolo dentro E il secchio più piccolo che cosa contiene? La droga Ehi baby ho perso il numero di telefono mi dai il tuo? Che simpatico ok 347 749 266 85 124 366 620 039 546 52 130 88 344 83 Scusa mi presti un occhio? Certo tieni Boh sono un mostro con tre occhi Ah un mostro Alberosaggio troverò mai il vero amore? Sì Cosa? Dove? Cosenza Wow corro E ora il tizio che tagliava l'erba super lentamente Aereo ninja Maestro insegnami a diventare un ninja No sei un Boeing 747 Ma Aereo ninja non accettava un no come risposta Così andò ad allenarsi nella foresta dei mille pugnali 1 2 4 8 1 9 2 4 0 7 4 3 1 9 7 4 12 3 40 1 1 2 3 9 9 7 C'era una volta un cane che voleva tanto tornare dalla sua mamma Il cane si chiamava Filorgio Fortunatamente la sua mamma era lì Chi di voi due ha ucciso il conte Profrolpio? Lui Oh Un caffè americano per piacere Subito Andava bene anche senza pistola Bevi La storia di Akpore Akpore era un tassista Solo che a volte guidava per sbaglio una scala al posto del taxi Dove la porto? Oh 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 Akpore Ma tutti gli volevano bene lo stesso Un giorno incontrò Gianfronza Oh no il mio gatto è su un albero Se solo qualcuno avesse una scala Ad Akpore venne subito un'idea 10.000 miliardi di anni dopo Ho finito Salve Li fate i toast con il formaggio? No Ti ho preso una cosa Ma quella è la mia collana E io te l'ho presa Ridammela No Uomo scotex quali sono le tue origini di supereroe? Da piccolo sono caduto in un pentolone di fragole E questo cosa c'entra? Prova a chiedermi qual è il mio gusto di gelato preferito Eh? Eh? Prova? Prova a chiedermelo Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Pistacchio Vuoi un bicchiere d'acqua? Sì Grazie Capelli magici woman Aiuto mi rubano la switch Approfittando del fatto che stavo giocando con i joycon staccati Grazie capelli magici woman Prego Che cos'hai dietro all'orecchio? Un buco con il sangue? Ma ma da grande voglio andare nello spazio Figlio mio se vuoi ci puoi andare oggi stesso Wow davvero? Certo vieni con me E insegui i tuoi sogni Beh i capelli Quali capelli? Oh sono un fantasmino Attento quella bici ci sta tagliando la strada Cosa? Nel magma Chi è un bravo ragazzo? Eh? Chi è bravo? Donald Trump Da grande voglio fare la complottista Ma fare la complottista non è un vero lavoro Questo è esattamente ciò che sosterrebbe a un rettiliano Oh no è già bravissimo Ce l'hai un fazzoletto che devo soffiarmi il naso? Te lo soffio io Kebab ti va di fare a metà di uno? Ah mi spiace non posso sono vegana Ah non mangi carne? Ah ah non vegana VEGANA E cosa significa? Lo dice il nome stesso Mangio solo cibo proveniente dalle province di Venezia, Gallipoli e Napoli Ma Gallipoli non fa province è sotto lecce Oh una pizza con le sarde in saor Chi è un bravo bimbo? Eh? Chi è bravo? Jimmy Tieni un osso Jimmy Buono La mia macchina è un transformer Questo è impossibile Ah sì? Guarda qua Ma è uguale a prima Sì ma adesso va a metano Mi piacciono di più i cani o i gatti? A me piace la pizza Puoi scegliere solo tra cani e gatti Cosa? Non voglio mangiare nessuno dei due Il giorno in cui tutti si svegliarono più vecchi di un giorno Chi è un bravo cagnolino eh? Chi è un bravo cagnolino? Perché sto aspettando una risposta? I cani non capiscono il linguaggio degli umani Esatto non lo capiamo Aio Ciao come stai? Bene E tu? Anch'io Bene Molto bene Fantastico sono contento Anch'io sprizzo di gioia Hai sentito del cane esplosivo? Sì che tragedia Il funerale è giovedì Era così giocane Devo soffiarmi il naso Mi aiuto io Chi è un bravo cagnolino? Eh? Eh? Chi è un bravo cagnolino? Non lo so Sono io Cavolo lo sapevo Stavo per dirlo Ehi hai sentito parlare del pinguino esplosivo? Sì ma è solo una leggenda Ah ok Vai a prendere la pallina Fufos Ehi al ladro Corri Fufos Chi è un bravo cagnolino? Ti sfido Ok a cosa? È bravissimo Ricorda figlio Quando qualcuno ti dà un consiglio Non devi semplicemente accettarlo Mettilo sempre in discussione Ok papà Dottor culo cane Di che forma è la terra? Dipende Da cosa? Tipo se prendi la terra E la metti in un contenitore cilindrico È a forma di cilindro E poi Oh no un pinguino esplosi Dove le fa male? Qua Cosa? Quando c'era lui I treni arrivavano in orario Lui chi? Il macchinista del treno Ora sono tutti pilotati dai computer Ok Ci rivediamo Carota Ti uccido Albero saggio Tu sai proprio tutto? Io che sa tutto Tu? Tu? Maledetti termosifoni Vi sconfigo Avete vinto la battaglia Ma non la guerra Ciao benvenuti nella mia cucina Facciamo un rapido tour Questo è un cucchiaio Fine del tour Ma Ho detto fine del tour Ti uccido No ti uccido io No io No io C'è solo un modo per scoprire Chi uccide chi Ed esso è Il bello di credere Nella reincarnazione È che puoi far sempre Il bis di bistecca È per quello che si chiama Bis Tecca C'è solo un modo Di scoprire Chi uccide chi Con una gara Di uccidere No non voglio Ah allora Backgammon Ok Ciao Ciao Ma come si gioca Backgammon Oh credevo che lo sapessi tu Hai visto il sapone magico Nuo Ciao Cinque Ok ho studiato il Backgammon Ah bene Oh no ma questi sono gli scacchi Ahà Scusa George Hai per caso visto il C'è un po' di credere Non mi muovono un brazo Moglie Mi recone il molise Giacomo smettila di inventarti luoghi inesistenti solo per non affrontare il fatto che il nostro matrimonio è finito La tua faccia è finita Hai sentito parlare della leggenda del sapone che se lo mangi diventi un drago gigante? No Neanche io Inoltre questo foglio sono le istruzioni per montare un mobile Ciao blurbo Che cosa hai messo sul piede? Del glitter Scusa ma tu sai giocare a scacchi? No Perché? Allora gara di uccidere Ok Il mio cliente non può aver commesso il fatto Perché questa è la vostra carta Era la mia carta ma lui è condannato lo stesso Oh Ok Avete un panino? Sì La leggenda diceva il vero L'altro giorno ho visto un canguro Wow davvero? No Scherzo Oggi cucineremo la pasta Prendete la pasta e cercate di non darvi fuoco Oh no è successo esattamente ciò che non mi auguravo Ti uccido Anch'io Aiuto ho mangiato un sapone che mi ha trasformato in un drago Vedi questo paesaggio figlio? Un giorno tutto questo sarà Mio papà Suo? Non dire bagianate quando sarà pronta la macchina dell'apocalisse Un giorno tutto questo sarà magma 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 Che bel fiore La natura è bella perché non parla Grazie Fermi malviventi Ci sono io Spider-Man Aiuto Mi scusi deve scendere siamo al capolini all'inferno Oh no io dovevo scendere a Rimini Mi scusi ha aggiustato il computer? Certo che problema ha il suo computer? Non si accende più Ok cosa succede quando premi il pulsante di accensione? Il pulsante di accensione? Il pulsante di accensione quello ho fatto così Sul mio computer non c'è nulla del genere Me lo puoi far vedere per favore? Certo Questo non è un computer è un gatto morto E adesso non inizi con i termini tecnici che io di tecnologia non ci capisco niente Usciamo insieme una volta? Mi spiace ma non sei il mio tipo Scacco matto! Ha 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 Non te l'aspettavi eh? È inutile sono il più bravo scacchiere del mondo Dov'è il tuo dio adesso? Dov'è il tuo dio? Stiamo giocando a briscola Tutte scuse! Fiore abbracciami No! Vabbè E così ho costruito una bicicletta fatta solo di acqua E l'ho chiamata il ciclo dell'acqua Vorrei dire il ciclo d'acqua Un money gold mi deruba il portafoglio Aiuto wine man Grazie wine man Stavo sognando di avere degli amici Per fortuna era soltanto un sogno Gli scacchi sono una metafora della vita Ogni mossa è un passo nella direzione che decidi di seguire E quando hai fatto abbastanza passi Voilà! Scacco matto! Ehi hai mosso il mio alfiere! La vita è misteriosa e complicata Mi trovo ai confini del mondo Pare che ci sia una scala Chissà dove porterà Forse... Esatto Sgardoboff Porta nel passato Alza le mani molto lentamente Sgardoboff che tu sia dannato Per fortuna Sgardoboff Salvò Sgardoboff da Sgardoboff Mentre Sgardoboff brandiva Sgardoboff E... Ehi Gino stai di nuovo scrivendo quel tuo romanzo idiota? Tu sei idiota! Ehi aspetta un attimo Cosa c'è? Questa tastiera non ha i tasti Beh la mia faccia non ha una faccia! Aaaaaa Ehi tu sei in arresto? Oh no ho dimenticato che non sono invisibile Salve vuole comprare per suo figlio il burzop? Il gioco preferito dai ragazzi di oggi giorno? Cosa? Il burzop è l'ultimo grido in fatto di divertimento infantile Con il burzop i suoi figli cresceranno felici e in forma! Mi scusi ma io non ho un figlio e stavo andando verso quella parte Compri il burzop signore! Compri il burzop! E va bene me ne dia uno! Non ne abbiamo più! Oh no generale stiamo perdendo la guerra! Ci rimane soltanto un'ultima possibilità La nostra arma segreta Scatenate l'arciere! Cosa guardi di bello? Niente questo è il mio occhio Che scherzo divertente! Fammi vedere il cannocchiale dai! No fermo fermo! Colpo della spirale! Le faremo sapere se qui alla Microsoft cerchiamo gente con le sue capacità Grazie Aspetti guardi come mi trasformo! Se ne vada Cosa? Ma no! Dov'è il mio miliardo di dollari? No! Le mie mutande! No! Un morto! Un morto! Un morto! Un morto! Amico tu hai un problema? Smetto quando voglio Che paesaggio commovente caro amico Jonathan Non mi importa che tu sia un dinosauro Perché sei il mio migliore amico Ed è per questo che ho deciso di condividere con te il potere del volo Cosa sta dicendo signore? Io non sono un dinosauro Non mi chiamo Jonathan E non ho idea di chi lei sia Inoltre un cassonetto non mi sembra un paesaggio così commovente Per non parlare del potere del volo Lei è chiaramente pazzo Cosa ne pensi del tatuaggio che mi sono fatto sulla nuca? Che cosa ne penso di cosa? Di questo tatuaggio di due facce che mi sono fatto sulla testa È molto bello Grazie anche il tuo Ah che bella doccia Ciao stai aspettando l'autobus? Sì Che sfigata Io invece ho un elicottero Aia Che ti succede Mark? Un'hape mia punto Una boccia di banana sulla pista di asterraggio Che cosa curiosa C'è solo una cosa che mi fa arrabbiare di più Di venire schiacciato da un grosso masso Ah sì? Cosa? Ah sì? Cosa? Ok, l'ho capita adesso Ho punto nel segno, eh? Stai zitto, Mark E ora è tempo di lavare i vestiti insieme a me stesso Oh no, ho dimenticato l'ammorbidente e l'ossigeno Inoltre questa lavatrice è su un prato Cavolo, che sete che ho Presto un vulcano Sono un vigile del fuoco Sparami l'acqua in faccia Ho detto un vigile del fuoco Oh ma quando arriva quest'autobus del deserto? Ehi Mario, hai sentito? Hanno legalizzato l'omicidio Cosa stai dicendo? Non è vero Comprate il pesce Il pesce Signori, comprate il pesce Salve, vorrei il pesce di cui sta parlando Pesce? Qui non ne abbiamo Cosa? Ma questo non è il mercato del pesce Cosa sta dicendo? Se lo deve essere sognato Ok, scusi, arrivederci Certo che devo dirlo, hanno un pessimo servizio urbano qui nel deserto Bella la tua bicicletta nuova, la posso provare? Prego Ma i pedali non girano? Aspetta un momento, questa bici è fatta di cera Perché hai comprato una bici di cera? Perché una normale non c'era Ehi, ciao, volevo solo dirti che ti voglio bene Che io ti amo Telefono Ah già, oggi c'è sciopero Ho creato il veicolo definitivo Con questo finalmente potrò fare i viaggi che ho sempre sognato Il veicolo definitivo è un cane su una bici Unisce la velocità del cane alla comodità del cane Ehi, come ti permetti di contravvenire alla legge di gravità? Guarda che sei tu quello che non la sta rispettando Ah, è vero Questa esperienza ci insegna che ci dobbiamo volere tutti bene Indipendentemente dalla forza gravitazionale che esercitiamo sulla Terra Fuori gli antigravitazionali dal mio paese! La tv ci fa il lavaggio del cervello Ti confondi, quella è la lavatrice No, ti sbagli tu Io ho una tv particolare che lava anche i panni e gli organi Allora se non ti spiace ti porto delle mutande Che sono stufo di lavarle con il tostapane Ehi, ciao, sei libera la cena stasera? Certo Io invece esco con un tipo che ho conosciuto ieri fa, il bagnino Ok Sono stato accettato a un provino per fare il batterista in una band, yes! Ma per la batteria quella che si mette nel telecomando o quella che si suona? Ce n'è una che si suona? Aiuto dottore, mi sono mangiato un mappamondo Cosa? E perché avrebbe fatto una cosa del genere? Mi ha detto lei di mangiarlo per farmi passare i mal di pancia No, io l'avevo detto di mangiare dei sassi, dei sassi! Mamma, papà, io vi voglio bene ma sono abbastanza grande per sapere la verità Sono stato adottato? Non c'è bisogno di mentire Salve Vorrei un bicchiere di acqua ghiacciata Questo è un negozio di parrucchieri Allora vorrei un bicchiere di shampoo Questo corridoio è assolutamente vuoto, non c'è nessun indizio Ma Bruce, i criminali lasciano sempre un indizio Hai ragione Forse la mancanza di indizi è un indizio Zero indizi Zero Lo zero è un numero Il professor Matematicus è in pericolo Ehi tu, sai giocare a biliardo? Cosa? Se io so giocare a biliardo? Avete sentito ragazzi? Chiede se io so giocare a biliardo Vogliela vedere Tom Non mentivi Non è forte chi non cade mai Ma chi caduto ha la forza di rialzarsi Mi tiri su? Oggi ho già tirato su un telecomando Sono stanco Com'era buono questo riso al carry, Jor Ma cos'erano questi piccoli animaletti croccanti a forma di scorpione che ci hai messo? Scorpioni! Scherzo! Erano dei serpenti mamba nero vivi! Che burlone che sei Jor C'era proprio cascato Che bel camion! Gli farò una fotografia Bella inquadratura! Fufos, la vuoi la pallina? E tu pallina, vuoi Fufos? Sì, lo voglio Fufos, la vuoi la pallina? Eccola qua! La vuoi la pallina, Fufos? Beh, sappi che per produrla sono stati rilasciati 900 kg di anidride carbonica Per non parlare di quella rilasciata per trasportarla fino a qui dall'Asia Vuoi la pallina? Forse intendi che vuoi distruggere il pianeta? Vedi, Fufos, la questione è che le palline non esistono Ah no? E allora questa cos'è? L'ho trovata in una scatola sotto il tuo letto Il mio cane parla? Fufos, la vuoi la pallina? No È perché prima ho detto che fa un freddo cane? I cani sono caldi! Fufos, la vuoi la pallina? Certo Ok, allora... Questa non è una pallina, è una bomba! Che cosa? Scappiamo! Maledetto dottor cattivo! Siamo salvi per un pelo Un pelo di cane Vuoi la pallina, Fufos? Mi scusi signore, ma si deve essere confuso Io mi chiamo Baugusto Ah, mi scusi Fufos, la vuoi la pallina? La pallina non esiste, Fufos! Non esiste! È un'invenzione dei poteri forti! Fufos, la vuoi la pallina? Eh, ho detto pallina, volevo dire gallina Fufos, la vuoi la pallina? Studia, lavora duro e forse un giorno potrai permettertene una anche tu Fufos, la vuoi la pallina? Eh, tieni È tutta qua... La vita Fufos, la vuoi la pallina? Allora sarà meglio che disattivi questa bomba prima Così possiamo scappare Presto, taglia il cavo rosso Quello rosso, veloce! Fufos, la vuoi la pallina? Anch'io, Fufos Anch'io Fufos, la vuoi la pallina? Beh, questo è un cilindro Un cilindro di palline da tennis! Sono Ridi Ciao Ridi, sono Franco Ciao Franco, daie di conoscerti Daie mio Cip, 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 cipolla Sono un lecca lecca E io ti mangio, mangio L'uomo che non sapeva dire la parola cheesecake Allora ha deciso che dessert vuole? Sì, eh... Tiramisù! Ok Quindi che dessert vuole? La torta col formaggio! Ecco qua, questa è la mia nuova auto È un appunto Molto divertente Non c'è perché il punto non ha dimensioni Geniale! Cosa? No? Oh no, me l'hanno rubata! Ci descriva l'auto rubata per cortesia No, non ha dimensioni! Facciamo una passeggiata in riva al mare? Perché in riva al mare? Quando possiamo fare una passeggiata sul mare? Che bello, sei il mio migliore amico, Gesù! Anche tu, Gianfrantonio Siamo due, lecca lecca lecca! E io vi mangio, 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 mangio! Cip, cip, cip Aglio! Gianfrabo, non ci vediamo da quando andavamo in terza superiore, come va? Ma io vado in prima superiore Infatti io vengo dal futuro! Wow, hai qualche consiglio da darci dal futuro? Sì, smettetela di fare il cambiamento climatico per piacere No! Uffa, vorrei fare il musicista, ma è difficile Che strumento musicale vuoi suonare? E non iniziare con questi termini tecnici difficili adesso Che musica ti piace? Niente termini tecnici! Ti sei tagliato i capelli? No, me li sono fatti tagliare Ahah, cos'è? Non sei capace di tagliarteli da sola? Ahahahah Esatto Ah L'uomo con i poteri di tavolo Jasmine, ti fidi di me? No! Pronto polizia, c'è un tizio strano Genio, il mio ultimo desiderio è la mia libertà No, l'hai già usato per fare esplodere il sultano Uffa Che bello, il bosco è pieno di alberti Forse intendi alberi? No, intendo proprio alberti Forse hai ragione Alberto, scusa Scusi accettate Alberto, torniamo alla tenda, dai Ciao Alberto, abbiamo portato la legna per la cena Ciao Alberto e Alberto, evviva, adoro il risotto alla legna Oh no Siamo tre lecca lecca E io vi mangio, 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 mangio No, perché ho la glicemia alta Ah, che relax Hop Oh no Mi sono amacata Cip, 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 balena Cosa? Sapete come si misura la lunghezza di un cuoco? In metr Se è piccolo, in centimetr Ricorda figlio, i soldi non fanno la felicità La pizza sì Allora possiamo comprare la pizza stasera? No, siamo senza soldi Buon compleanno Per il mio compleanno hai ucciso un fiore e ora mi porgi il suo corpo morente? Sì Wow, come facevi a sapere che odio la natura? Grazie Ti ho anche prenotato una sessione di sparare alle balene È il compleanno più bello della mia vita Ah, casa dolce casa Casa salata casa Questo è il balletto che faccio quando sto per fare una scoregina Ma a volte lo faccio anche se non devo farla perché mi piace fare i balletti Scusi, sa che ore sono? Sì Me lo dice per piacere? Dopo Quando? Alle 13.45 Quanto manca alle 13.45? Te lo dirò alle 17 Ah, ok Muscoli Sai che cosa mi dico ogni mattina per affrontare la giornata? È tipo una frase motivazionale E qual è? Non ce la faccio più a stare con te Fai diventare tutta una battuta Che cosa c'entra? La tuta di Batman? Addio Marcantolio No, resta Posso cambiare Ho un sacco di spiccioli Questo è il balletto che faccio quando sto per fare una scoregina Ma a volte lo faccio anche se non devo farla Perché mi piace fare i balletti Ah, che bello il sole al tramonto Quella è l'alba Eh, scusa, mi sono confuso guardando la testa in giù Ma non funziona così E va bene, non ti va mai bene niente, Susseppe Spero di essere il primo ad arrivare alla festa di compleanno di Jasmine Così le faccio una sorpresa Oh no, c'è già a far Ho fallito l'esame Beh, hai dato del tuo meglio, no? No Allora vedrai che la prossima volta ti preparerai meglio Non penso, non ho voglia Vabbè, ci vediamo No, non credo Non mi dimenticherò mai di ciò che hai fatto per me, caro franceppo Ma io non ho fatto niente per te Esatto Papà, Giambullino ha detto che non so coniugare il verbo essere Che cosa? Vado a dirgli due paroline Ehi tu! Formichina Briciola Gliene ho dette due Grazie papà, fossi il mio eroe Ecco la pizza che ha ordinato Ma io non ho ordinato nessuna pizza Infatti il cartone è vuoto Ah ecco, fanno 0.000 euro e 0 centesimi Posso pagare con la carta? Sì Ecco del cartone Non posso accettare Forse perché non ha l'accetta, ecco Lei è troppo gentile No, sono Marta Rossi Tesoro, sono a casa Ciao bel bimbo, quanti anni hai? Donna, si possono davvero avere gli anni? Oh, il tempo ci scivola lentamente tra le mani Senza che noi lo si possa afferrare in un costante presente Che altro non è che un eterno passato Incessantemente fino alla fine del futuro La morte Allora quanti anni ti sono scivolati tra le mani avvicinandoti all'aldilà bel bimbo? Tanti così Una brioche vegana per favore Sì, ecco Grazie E insomma, da quanto sei vegana? Ho smesso di mangiare carne di brioche Dopo aver visto un documentario sui polli di brioche Capisco Scusate, sono le 18, dobbiamo chiudere Ok, scusa, finisco la brioche e vado via Questo è il balletto che faccio quando un drago sta per entrare dalla finestra Ok, raga Allora, praticamente lo sapete già che ogni anno ci sono le nuove scomics Ci sono più di 400 pagine Ho fatto un sacco di fumetti inediti Un sacco di rubriche inedite Cioè, sono divertentissime Me l'ha detto anche una maestra Che personalmente è venuta a cercare mia casa E ha detto Non smettila di tradiare I miei studenti Le mie studentesse Il mio cane Che ha apprezzato moltissimo la consistenza